Lo scorso anno la grande sfilata per le vie di Sestri Levante con studenti e partecipanti provenienti da tutta la Liguria. Quest'anno un lenzuolo bianco dai balconi dei municipi e delle case e un minuto di silenzio in tutta Italia alle 17.57, orario in cui il 23 maggio del 1992, 28 anni fa, nella strage di Capaci persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca e gli uomini della scorta, uccisi dalla mafia. Per non dimenticare quella tragedia, il 23 maggio si celebra la giornata nazionale della legalità, quest'anno in modo particolare a causa del momento storico che sta attraversando il nostro paese. Cambia la forma della commemorazione ma non la sostanza. La mafia si è sempre nutrita di complicità e di paura, prosperando nell'ombra. Le figure di Falcone e Borsellino, come di tanti altri servitori dello Stato caduti nella lotta al crimine organizzato, hanno fatto crescere nella società il senso del dovere e dell'impegno per contrastare la mafia e per far luce sulle sue tenebre. Queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel ventottesimo anniversario della strage di Capaci. I mafiosi, nel progettare l'assassino dei due magistrati, non avevano previsto un aspetto decisivo, quel che avrebbe provocato nella società. Nella loro mentalità criminale non avevano previsto che l'insegnamento di Falcone e di Borsellino, il loro esempio, i valori da loro manifestati, sarebbero sopravvissuti, rafforzandosi oltre la loro morte. Le parole di Mattarella sono state rivolte in particolare ai giovani al mondo della scuola, che non ha mai smesso di fare riflettere gli studenti sul valore della legalità e del rispetto dei diritti. E anche le scuole del Tiguglio hanno cercato di dare forma a questi valori, come l'Istituto Caboto, che dalla collaborazione tra tre classi è riuscito a produrre un video che racconta quel 23 maggio del 1992, per non dimenticare. Credo che sia una giornata importante, che non debba passare inosservata in questo periodo dove magari c'è più fretta, un po' più problematica, però ci sembrava così di poter dare un piccolissimo contributo. A questo proposito devo ringraziare anche la nostra nuova dirigente che l'ha colta con entusiasmo e forse dedicarlo al nostro dirigente, Glauco Berrettoni, che ci diceva sempre di esserci sempre, quindi cerchiamo di esserci in qualche modo.